Tra le aziende impegnate nella lotta all'epatiti virali ve Gilead Science. Quali sono le prospettive di studio e dei nuovi farmaci di questa azienda e qual è l'impegno di Gilead? Ne parliamo durante la 56esima edizione del congresso dell'AISF, l'associazione italiana studio fegato, con la dottoressa Carmen Piccolo della direzione medica di Gilead. Dottoressa, qual è l'impegno di Gilead nella lotta all'epatiti virali? Da sempre Gilead è impegnata a portare a letto dei pazienti terapie innovative che cambino il decorso delle patologie. Operiamo nel settore da 35 anni e sicuramente l'ambito dell'epatiti virali è l'ambito più emblematico in cui Gilead è impegnata nel cambiare il decorso naturale della patologia. Se pensiamo all'esempio dell'epatite C in cui abbiamo messo sul mercato il primo trattamento che ha consentito la cura nella quasi totalità dei pazienti e poi da lì ogni anno abbiamo lanciato per i quattro anni successivi un trattamento all'anno a base di sofosbuvir. Oggi sicuramente l'impegno nell'epatite C è quello di andare verso l'estensione di questa cura al maggior numero di pazienti possibili e quindi condividiamo la missione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di ridurre l'epatite C del 90% entro il 2030. Ma non solo l'epatite C, l'epatite B. Siamo presenti da circa 20 anni anche con trattamenti per l'epatite B, trattamenti che oggi diventano più efficaci, più tollerabili e anche lì l'auspicio è quello di arrivare ad una cura. E ultimo ma sicuramente non meno importante il trattamento per l'epatite Delta. Dopo 40 anni dalla scoperta del virus dell'epatite Delta il primo e unico trattamento messo a disposizione dei pazienti affetti poi dalla forma più grave di epatite è stato un trattamento Gilead. Quindi per rispondere alla sua domanda direi che l'impegno è concreto ed è anche di successo perché come non mai ha consentito di cambiare il decorso di patologie prima incurabili. Oltre alle epatite virali quali sono le prospettive nella lotta alle malattie del fegato? Allora diciamo che Gilead proprio negli ultimi mesi ha unito la passione per l'innovazione e per il portare terapie innovative alla expertise in ambito epatologico e quindi con la recente acquisizione di Simabay andremo ad ampliare il nostro impegno nell'ambito delle patologie epatiche con un trattamento che ha dimostrato negli studi clinici un'importante efficacia per pazienti in cui c'è un elevato bisogno clinico che sono pazienti con colangite biliare primitiva. Una patologia che ad oggi non ha una terapia efficace e per la quale Gilead attraverso questa acquisizione si impegnerà a portare una terapia a disposizione dei pazienti. Quindi le prospettive vanno ancora nella direzione di un impegno ulteriore in quest'ambito. Ecco guardiamo anche al futuro. Quali sono le prospettive di Gilead sul fronte delle epatite virali nel futuro? Abbiamo fatto tanto, ce lo dicevamo, ma sicuramente non finisce qui. La prospettiva è quella di mantenere viva la ricerca e raggiungere ovviamente anche un obiettivo che guardi ai pazienti e come dicevo anche all'estensione della cura al maggior numero di pazienti possibile. Quindi attraverso, con dedizione, attraverso sicuramente una partnership consolidata con gli attori scientifici ma anche le associazioni pazienti ci impegniamo per far sì che entro il 2030 l'obiettivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di ridurre del 90% le epatite virali venga raggiunto. È chiaro che la ricerca a seconda del tipo di epatite ha delle connotazioni diverse. Per l'epatite C siamo già in un contesto di cura quindi parliamo di estensione della cura al maggior numero dei pazienti possibili. Per l'epatite B siamo in un'ottica di ottimizzazione della terapia e della sua tollerabilità e quindi la ricerca per il futuro volgerà sempre più verso la cura. Idem per l'epatite delta per cui il farmaco è appena stato lanciato e quindi anche lì cercheremo di capirne le caratteristiche e di andare poi a tendere verso un percorso di cura anche per questi pazienti.